Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui siamo in partenza per Firenze da youtuber emergenti, qui siamo tutti e tre pronti per il viaggio, siete pronti ragazzi? Siamo pronti! Ok, stiamo tornando! Ciao a tutti! Il video è girato un po' di uno, è girato un po' di uno Oh, vedi che si sta prendendo qua, si sta prendendo qua, allunghiamo un po' la situazione Ok ragazzi, stiamo venendo qui alla piazza della signoria, quanti chilometri manca? Ah, un paio di chilometri, c'è una piazza qua che non so neanche come si chiama, ma comunque Speriamo di non perderci, ma che è quello dietro lì? Se qualcuno dietro si cammina dietro Chi è? Non lo so, ma chi è? Non so, non sono un fano di... Ah, lui è un fan di SpyDrock, lui è SpyDrock, lui è questo qua E io, io... Ti faccio? No, anche io sono youtuber, mondo pc web, se mi volete seguire, iscrivetevi in tanti della serie siamo siamo fusi con te però adesso basta ci fermiamo qua, riprendiamo tra non molto sì ma tu da me che cosa vuoi? lo prendo e lui caricata lo prendo e poi lo metto dall'interno sì è che ha fatto l'interno ragazzi grazie nel frattempo guardo cosa fanno questa è una ripresa non in diretta ma diretta diretta a voi ma non è diretta stiamo sistemando le indirette due cosine cinesi cosa combina sta lavorando va bene ecco te ti scontrerai con analisa chi è analisa? ah è lei ok ce l'ho sconso un po' che non si ritirà in sartenza per il resto sei brandizzata devi trovare una persona a fargli indossare il colpiccato e fargli dire in happy trust oppure pikachu sono autentrista il мало il metro la aspetta canada ci ha toccato mi tro gioce Sì, l'attenzione! Faccio qualche ripresa Gli rischia un tubo, lui va Come vanno le gambe? Veramente bene! Lei che sta tremando! Vanno bene! Vanno bellissimo! Sono spariti Se hai preso il premio Ragazzi vi faccio vedere Se hai preso il premio ed è sparito Arrivano otto persone Te ti devi metterlo Io ve lo metterei Ma Il cappello Quello del pokemon Il colore giallo Non mi riprendo, riprendo loro che è meglio Non guardate la mia faccia Che non si vede quindi Abbiamo Alle spalle Abbiamo un cavallo Non so chi è questo qua Ma comunque ve lo riprendo lo stesso In quest'altra parte Abbiamo i nudi Lasciate stare Non guardate Come si chiama questa piazza? Piazza del ronco Piazza del ronco Piazza del ronco Della signoria vostra Grande Piazza della signoria Piazza centrale Questa è quella più importante Questo qua Un colosso eh 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 E' casa Un colosso eh Ci vediamo allora ok Nel prossimo raduno Ciao a tutti È stato un piacere Anche per me Ciao Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Allora dai commenti Commenti finale su Allora commentato il raduno Veramente Veramente bene Ok Il prossimo raduno ci faremo todo A Bologna, Milano Adesso vediamo a Torino A Napoli, Roma Vediamo di organizzare Qui ci troviamo a Firenze vicino a Piazza della Signoria Stiamo andando in direzione dell'Arno, si chiama il fiume Comunque è stata una bellissima esperienza Sì, oggi è stata una bellissima esperienza Piene di cazzeggiamento si può dire Sì, ma sicuramente Abbiamo conosciuto altri youtuber Abbiamo condiviso delle idee Abbiamo giocato Non ho scherzato Tanto Ma tantissimo Il gelato non l'ho comprata a Firenze costa troppo Mi raccomando 8,50 euro un gelato Previsco ad andare a città di acqua Andiamo a prendere il caldo del bosco Così ci costa di meno Sì Siamo youtuber Perché però Gli spalmiando va bene Ma il gelato 10 euro Vabbè, ci vuol stare questo gelato Comunque, a parte quello È stata bellissima Una bella esperienza Spero che faremo altri raduni Ok? Io vi saluto Qui c'è Delmar C'è Il mondo PC E Spide Rock Alla mia destra Nel mezzo Un saluto a tutti i fan Ciao a tutti ragazzi Al prossimo raduno Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.